Il progetto del rover Perseverance è stato ideato per esplorare Marte alla ricerca di segni di vita antica e raccogliere campioni di roccia e suolo. Il rover è stato dotato di strumenti avanzati come Pixel e Sherlock per analizzare la composizione chimica e mineralogica delle rocce marziane. L'assemblaggio ha coinvolto materiali leggeri e resistenti, con test rigorosi per assicurare la sopravvivenza al lancio, al viaggio nello spazio e all'atterraggio su Marte. Completato nel 2019, Perseverance è stato trasferito al Kennedy Space Center per i preparativi finali e il 30 luglio 2020 è stato lanciato con successo a bordo di un razzo Atlas V. Dopo un viaggio di sette mesi e 480 milioni di chilometri, il rover è atterrato con successo nel cratere I-0 il 18 febbraio 2021. Guardiamo quindi insieme alcune immagini del lancio. All four RS-25 engines on the core stage and two solid rocket boosters now propelling the vehicle at 128 miles per hour. Hearing good control on the roll from teams of mission control. Il Grazie a tutti. Le prime immagini inviate dal rover Perseverance hanno mostrato il paesaggio marziano con dettagli senza precedenti, rivelando una vista mozzafiato delle vaste distese rocciose, delle dune sabbiose e dei rilievi montuosi. Con una risoluzione e una nitidezza mai viste prima. Perseverance ha raccolto dati sul clima migliorando la comprensione dell'atmosfera marziana e fornendo informazioni cruciali sull'evoluzione del paesaggio di Marte. Il rover ha iniziato subito le sue operazioni scientifiche, utilizzando i suoi strumenti per analizzare le rocce e il suolo circostante. Nei suoi primi mesi, ha trovato rocce con caratteristiche geologiche che suggeriscono la presenza di antichi ambienti acquosi, analizzando delta fossili nel cratere Iezero, rappresentanti di antichi sistemi fluviali e lacustri che potrebbero aver conservato segni di vita microbica. Ad agosto 2024, Perseverance ha concentrato la sua attenzione su una regione chiamata Bright Angel, situata al margine di Neretva Wallis, caratterizzata da rocce chiare che potrebbero fornire informazioni cruciali sul passato umido di Marte. In questa area, il rover ha scoperto una roccia soprannominata Cheyava Falls, contenente molecole organiche, sollevando la possibilità che Marte abbia ospitato vita in passato. La missione di Perseverance è in continuo aggiornamento, chissà quali misteri rimarranno da svelare e quali risposte potrebbero emergere nei prossimi anni. Iscrivetevi per rimanere sempre aggiornati.